Voci da Sanremo in collaborazione con Switch On Ci troviamo qui con alcuni ragazzi che si trovano qui vicino il Palafiori e per chiedere un po' che cosa ne pensate di questo festival parliamo per esempio con lei che si chiama? Daniela Allora Daniela hai seguito questo festival, ti è piaciuto? Sì, sì, molto bello quest'anno Secondo te chi porterà a casa la vittoria di questo festival? Il volo Il volo, ecco aspetta c'è un pareriscordante da questa parte di un amico che si chiama? Nicolas Allora Nicolas perché secondo te invece chi vincerà a questo festival? O Masini o Annalisa Ah, o Masini o Annalisa dici Vediamo cosa ne pensa invece lui che si chiama? Dennis Allora Dennis senti, anzitutto prima di dirci il tuo pronostico sulla vittoria del Sanremo Dici come ti è sembrato quest'anno il festival? Il migliore degli anni scorsi sicuramente Quindi sei pro Carlo Conti? Sì, sì dai, ci sta, ci sta E la vittoria invece a chi la diamo? Annalisa, spero Annalisa? Sì, sì È il pezzo che secondo te ha dato diciamo più emozioni? Sì, sì, migliore degli altri Bene, grazie ragazzi Un saluto per il circuito nazionale delle 100 radio Ciao, circuito nazionale delle 100 radio